Cosa pensa di questa emergenza acqua? Niente, è stato soltanto un momento di panico che la gente ha approfittato di prendere acqua a volontà. Lei è andato a comprare l'acqua al supermercato? Sono stato dal supermercato però non l'ho trovata. Poi l'ho trovata al bar di Colle Atterrato Basso che gentilmente mi ha dato 4 bottiglie da 2 litri e ho risolto per ieri sera. Le analisi dicono che i parametri dell'acqua sono tornati alla normalità. Lei si fida? Sì, però non è chiara la cosa. Dovrebbero dire chiaramente se l'acqua si può bere o non si può bere. Che è inutile stare nell'incertezza che uno non sa se può berla. Quando ha saputo che c'erano dei parametri fuori norma nell'acqua potabile del ruzzolo, cosa ha pensato e cosa ha fatto soprattutto? Ho pensato che era una cosa vecchia e che avevano tenuto nascosto. Sono uscito per trovare un po' d'acqua e non ci sono riuscito a trovarlo. Poi questa mattina ho trovato un po' d'acqua. Questo è tutto quello che ho fatto io. Dicono che l'acqua è tornata potabile. Lei si fida? Assolutamente no. Da ieri a oggi non mi fido. Purtroppo è difficile perché questa è una cosa che secondo me tenevano nascosti. Adesso con la nottata non ho rimesso a posto. Secondo me no. Lei continuerà a bere acqua minerale fino a quando? Vediamo. Non lo so. Per il momento bevo l'acqua minerale. Poi vediamo che succede. Come si è comportato lei ieri quando ha saputo la notizia? È chiaro che in un primo momento bisogna rendersi conto della situazione. Dopodiché nel momento in cui la notizia si è sparsa in modo ufficiale e siamo corsi tutti nei supermercati per prendere l'acqua. E lì abbiamo notato che la gente è andata in panico totale. Gente che andava sopra a prendere tutti i cartoni d'acqua. Cioè roba che era quasi una scena da film insomma. Oggi le analisi dicono che l'acqua è tornata potabile. Lei si fida? Allora dopo il panico di ieri e chiaramente questa cosa deve scemare piano piano perché all'inizio poca gente si fida. Poi con qualche giorno di tempo poi si tornerà sicuramente alla normalità. Lei è preoccupato per l'acqua? No per niente perché io da bambino ho bevuto sempre il vino. Quindi adesso a questa età posso fare anche a meno benissimo. Quindi solamente per lavare i piedi e altre cose mi serve l'acqua.